un'è l'accensione cos'ha? cos'ha? dal vuoto vedete che da suba c'è uno vuotare che vuoi? giù c'è il punto c'è uno a mano? no eeeh da suba c'è uno ma non so no c'è un futuro che vuoi dire che fossi in avanti qui da quella guardia e' un'altra direzione e' un'altra marina 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 piaci investigate tiro speciale vedete veni qua vieni qua venite 人 Grazie a tutti.